Oltre alla tragedia umana, il naufragio del Costa Concordia rischia di assestare un duro colpo al settore delle crociere. Le immagini di questo gigante dei mari, coriccato su un fianco, hanno macchiato la reputazione della compagnia e quella della sua casa madre, la statunitense Carnival. Il momento non potrebbe essere peggiore. È a gennaio, infatti, che gli operatori ricevono circa un terzo delle prenotazioni per l'intero anno. E dopo un 2011, già difficile a causa della crisi economica, una contrazione della domanda potrebbe portare a un calo generalizzato dei prezzi. A livello globale, il settore ha un valore di mercato pari a 27 miliardi di euro. Nel 2012 si prevede un afflusso superiore ai 20 milioni di passeggeri, i quali, durante le soste nei porti di attracco, spenderanno circa 12 miliardi di euro. Carnival è il primo operatore mondiale. Oltre a Costa, possiede altri nove brand e una flotta da 100 navi da crociera. La perdita, derivante dall'affondamento del Concordia, potrebbe ammontare a circa 90 milioni di euro per quest'anno. Secondo gli analisti, l'incidente avrà certamente delle ripercussioni nel breve termine, non necessariamente sul lungo periodo. Molto dipenderà dalla capacità degli operatori di contrastare il danno d'immagine.